Scene apocalittiche nel Vangelo di questa domenica. Gesù fa una scorrettezza, manda avanti il nastro della storia e ci fa vedere il finale. È come se uno che sta vedendo un film a un certo punto stop e manda avanti e ci fa vedere il finale di questo film. In definitiva questa sarebbe una cosa molto brutta perché ci rovina la sorpresa, ma a volte la nostra vita diventa così strana, così pesante, così insopportabile che soltanto se ci ricordiamo come va a finire la storia allora abbiamo il coraggio di continuare a vivere questa storia, a sopportare questa storia, ad affrontare questa storia. Per questo Gesù ci parla degli ultimi tempi, ci parla degli ultimi giorni, ci parla della destinazione verso cui tutti noi ci stiamo incamminando e ci dice che lui ha vinto, ha vinto la guerra, ha vinto la nostra storia, ha vinto tutte quelle cose che in questo momento invece ci fanno stare male. E soltanto il ricordo di questa vittoria, di questa guerra fa ingoiare a ciascuno di noi l'amaro dei fallimenti delle nostre battaglie. Quando ogni volta che magari affrontiamo qualcosa sbagliamo oppure rimaniamo succubi di certe cose, il ricordo che qualcuno le ha già vinte queste cose anche per ciascuno di noi ci dà il coraggio di viverle con dignità, di prendere un respiro e di riprovarci da capo. Il cristiano è uno che si rimette in piedi non perché trova dentro di sé questa forza per rimettersi continuamente in piedi, ma perché fa memoria e ricorda questo finale, ricorda il suo destino, ricorda che qualcuno l'ha già salvato, che qualcuno ha già vinto la storia, che qualcuno ha già redento la sua storia e questo ricordo è una forza per lui e per la gente che sta accanto a noi. Grazie 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 Grazie